benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di come possiamo utilizzare le interfacce in particolare e più in generale l'ereditarietà in java per risolvere problemi concreti presenterò sostanzialmente una serie di casistiche in cui l'utilizzo delle interfacce e dell'ereditarietà più in generale in java possono essere utili per risolvere determinati problemi. Quali sono i principali modi di utilizzare le interfacce in java? Allora un modo molto ovvio e semplice è quello di definire quella che è un'interfaccia comune dove in questo caso interfaccia è intesa nel senso più generico del termine. Quindi io posso definire un'interfaccia comune e poi fornire tante implementazioni alternative. Un'altra modalità è quella di fornire quello che è un comportamento comune. Io ho ad esempio un algoritmo che ha bisogno di utilizzare alcuni comportamenti degli oggetti su cui opera ecco l'interfaccia è un modo molto comodo e largamente utilizzato in java per andare a definire quei metodi e quindi dare la possibilità all'algoritmo di utilizzare i metodi e agli oggetti utilizzati dentro l'algoritmo di implementarli. Un'altra modalità è quella che io chiamo parametrizzazione comportamentale ovvero quello di andare a mettere dentro un particolare oggetto non dei dati ma esclusivamente uno o più metodi che poi potranno essere utilizzati più in generale da un algoritmo. Abbiamo poi un utilizzo molto più generale che è quello di andare a separare gli elementi di una struttura complessa che vogliono comunicare tra di loro lasciandoli indipendenti di variare e di essere sostituiti con altre varianti. E poi c'è un utilizzo molto particolare che è fatto in java che è quello di utilizzare delle interfacce che permettono di flegare le classi che lo implementano. Iniziamo da quello che è l'utilizzo più comune e più semplice ovvero andare a definire un'interfaccia per tante implementazioni alternative. Cercherò di presentare questi diversi modi di utilizzare le interfacce sotto forma di pattern semplificati ma giusto per darvi un modo di capire qual è il problema che cerchiamo di risolvere. Il contesto in cui si situa l'uso di implementazioni alternative è il seguente. Abbiamo sostanzialmente un modulo che può avere diverse implementazioni ad esempio per il modo di memorizzare i dati, per il modo di elaborarli. Il punto è che io vorrei poter utilizzare diverse implementazioni in maniera più o meno intercambiabile. La soluzione è quella di andare a definire un'interfaccia che fornisce tutti i metodi che devono essere forniti da questo modulo e poi permettere a più classi di implementare questa interfaccia e quindi andare a fornire le diverse implementazioni della stessa interfaccia, dello stesso modulo. Esempio molto semplice, immaginiamo di dover andare a memorizzare dei numeri complessi. Io posso definire un'interfaccia complex che ha quattro metodi che ci permettono di andare a recuperare la parte reale, la parte immaginaria, il modulo o l'argomento. Ovviamente sappiamo benissimo che un numero complesso può essere memorizzato come coppie di coordinate in un piano cartesiano, quindi coordinate rettangolari, oppure come una coppia di coordinate polari. Quindi data questa interfaccia io posso avere ad esempio l'implementazione che utilizza le coordinate rettangolari. In questo caso avrò un costruttore che prende le due componenti, la parte reale e la parte immaginaria, li memorizza negli due attributi e poi avrò banali implementazioni per il metodo real e im che mi dà la parte immaginaria e un pochettino più complicate per l'argomento e il modulo. In maniera del tutto analoga posso andare a definire un'altra implementazione che usa le coordinate polari e quindi posso andare a utilizzare queste due varianti, quindi la classe complex rett e la classe complex polar attraverso un'interfaccia che è complex a cui io posso andare a fare delle richieste che corrispondono a uno qualunque dei metodi definiti nell'interfaccia. Come poi venga declinata questa richiesta dipende dalla classe che implementa effettivamente l'oggetto a cui stiamo facendo la richiesta. All'interno di implementazioni alternative io posso andare a sfruttare la possibilità di definire dei metodi che siano statici per andare a fornire una serie di funzionalità aggiuntive. Visto che il punto di partenza è l'interfaccia e a fronte di questa interfaccia posso avere tante altre classi io potrei utilizzare questa interfaccia ad esempio per andare a definire alcuni metodi di tipo factory cioè che creano degli oggetti e che mi permettono di andare a creare gli oggetti specifici senza dover andare a recuperare le singole classi. Ad esempio dentro l'interfaccia complex potrei aggiungere questi due metodi from rect e from polar che sostanzialmente prendono una coppia di coordinate rettangolari e mi costruiscono l'oggetto che le implementa oppure prendono le coordinate polari e mi costruiscono l'oggetto che le usa. A questo punto l'interfaccia complex è un po' la facciata di tutto il sistema di rappresentazione di numeri complessi e posso andare a utilizzare questi due metodi per andare a creare gli oggetti specifici. Perciò l'esempio che abbiamo visto prima di uso delle due classi specifiche potrebbe essere trasformato in quest'altro in cui vado a usare complex.fromrect e complex.frompolar che mi permettono di creare due tipi di oggetti che poi comunque visto che implementano la stessa interfaccia possono essere usati tranquillamente in maniera assolutamente intercambiabile. Sempre nelle interfacce di questo tipo può avere spazio l'uso dei metodi di default, metodi che possono andare a sfruttare altri metodi già definiti nell'interfaccia ma ovviamente non hanno accesso a quelli che sono invece gli attributi che sono comunque definiti nelle classi che implementano l'interfaccia. Ad esempio posso andare a definire un metodo di default isreal che semplicemente verifica che la parte immaginaria sia zero. Come vedete questo metodo non potendo usare gli attributi delle classi perché ovviamente questa è l'interfaccia fa un uso di quelli che sono i metodi normali già definiti all'interno dell'interfaccia. Quindi questo è il primo modo, forse quello più intuitivo, di andare a utilizzare le classi, a usare le interfacce. Definisco un insieme di metodi che poi potranno essere implementati in diversi modi in diverse interfacce. Un secondo problema che possiamo andare a risolvere utilizzando le interfacce è quello di fornire un comportamento comune. Qual è il contesto in cui abbiamo questo tipo di problema? Normalmente può capitare di avere degli algoritmi che richiedono da parte dei dati su cui operano un certo tipo di comportamenti, ad esempio che possono essere stampabili, che possono essere confrontabili, che forniscano ad esempio alcuni tipi di metodi getter. Le caratteristiche degli oggetti ovviamente dipendono dall'algoritmo che stiamo scrivendo. Il problema è che noi vorremmo andare a poter applicare lo stesso algoritmo a diversi tipi di dati senza doverlo riscrivere più volte per tutte le varianti. Quindi la soluzione qual è? È quella di andare a definire un'interfaccia in cui andiamo a mettere i metodi che l'algoritmo si aspetta siano implementati dagli oggetti su cui opera e poi fare in modo che le classi che darò in pasto a questo algoritmo implementino l'interfaccia. Vediamo un esempio pratico all'interno di quelle che sono le classi già predefinite nelle librerie standard Java. In particolare faccio riferimento alla classe Arrays che si trova dentro Java Utils. Arrays, l'abbiamo già visto in qualche esempio, sostanzialmente è una classe che include tutta una serie di metodi di utilità che possono essere utilizzati per andare ad operare sugli Array. In particolare adesso ci soffermiamo su uno dei metodi che è definito dentro Arrays che si chiama sort. Il metodo sort che cosa fa? Sostanzialmente come vediamo in questo semplice esempio, dato un Array, se questo viene passato al metodo sort, il metodo sort lo ordina. Ora, se gli elementi dell'Array sono degli interi, è ovvio che l'ordinamento viene fatto andando a fare un'operazione di minore tra gli elementi, tra le coppie di elementi che verranno trattati dall'algoritmo. Un altro discorso possiamo farlo se invece gli oggetti dell'Array non sono degli interi, ma sono degli oggetti. Ecco, in questo caso non avendo la possibilità di fare un'operazione di elemento I e elemento I più uno maggiore, dobbiamo avere un modo di andare a confrontare degli elementi. Questo modo ci viene definito dalla interfaccia che si chiama comparable, che è definita dentro il package java.lang. L'interfaccia comparable è un'interfaccia molto molto semplice. È un'interfaccia che ha un unico metodo che si chiama compareTo. La semantica di questo metodo è quella che è abbastanza comune quando dobbiamo andare a confrontare due oggetti o due elementi, sostanzialmente ci restituisce un valore minore di zero se questo oggetto precede l'altro, un valore uguale a zero se questo oggetto e l'altro che viene passato come parametro sono sostanzialmente uguali, quindi non c'è un ordine tra i due, e un valore maggiore di zero se questo oggetto segue e è più grande di quello che viene passato come parametro. Anche in questo caso vedete che il parametro del metodo compareTo è un object e quindi possiamo utilizzarlo in maniera molto generale. Piccola osservazione, appena vedremo cosa sono i tipi generici vedremo che la dichiarazione di comparable è leggermente diversa e questo ci permette di scrivere del codice più semplice. Come possiamo andare a utilizzare comparable? Ecco questo è un esempio molto semplice, immaginiamo di avere una classe student con un parametro, un attributo id, io posso andare a dire che la classe student implementa comparable e quindi deve definire questo metodo compareTo e che cosa fa? Sostanzialmente quando gli viene passato un oggetto questo viene convertito in uno studente, il riferimento viene convertito in uno studente, non l'oggetto, ricordiamoci come funzionano i cast e quindi posso andare semplicemente a restituire this.id meno adra.id. Quindi cosa succede? Che sostanzialmente viene fatto un ordinamento in base all'id che è un intero, per cui se questo intero è più piccolo dell'intero che è l'identificatore dell'altro studente, allora restituisco un valore minore di 0, precede. Se i due identificatori sono uguali restituisco 0, se invece questo identificatore è maggiore dell'identificatore dell'altro studente restituisco un valore maggiore di 0. Quindi sostanzialmente abbiamo quello che è il comportamento standard dei nostri oggetti e del metodo compareTo e quindi abbiamo la possibilità di fare un confronto. Un altro esempio di comportamento comune che noi ci aspettiamo all'interno di un algoritmo lo possiamo vedere con riferimento a una interfaccia che si chiama Iterable. Iterable è un'interfaccia anch'essa molto semplice che restituisce un iterator. Cos'è questa interfaccia? È un'interfaccia che sostanzialmente dando accesso a un oggetto di tipo iterator permette di utilizzare un oggetto come contenitore all'interno di un costrutto foreach. Quindi io posso andare a iterare sugli elementi che sono contenuti all'interno di un qualunque oggetto che implementi l'interfaccia Iterable. A questo punto andiamo a vedere come è fatta l'interfaccia Iterator che è quella legata ovviamente a Iterable. L'interfaccia Iterator è leggermente più complessa ma semplicemente due metodi, asNext e next. Il metodo asNext sostanzialmente mi dice se esiste un prossimo elemento su cui andare a iterare, mentre invece il metodo next mi permette di avere il prossimo elemento su cui fare l'iterazione. Ecco come possiamo utilizzare un iteratore per fare un ciclo. Possiamo prendere un oggetto sequenza che implementi l'interfaccia Iterable e quindi utilizzare il metodo Iterator. Il metodo Iterator ci restituisce un iteratore il quale ha un metodo asNext che noi possiamo utilizzare dentro un ciclo while per andare a iterare finché ci sono elementi ulteriori su cui effettivamente iterare. All'interno del ciclo possiamo utilizzare il metodo next che ci restituisce il prossimo elemento e oltre a restituire il prossimo elemento avanza di una posizione. Quindi otteniamo il prossimo elemento, lo mettiamo dentro la variabile e poi ad esempio lo stampiamo. Questo tipo di ciclo che qui è scritto in maniera esplicita utilizzando il metodo Iterator e i metodi asNext e next dell'oggetto iterator restituito può essere scritto utilizzando la sintassi for each in Java utilizzando object element due punti sec, quindi la variabile che voglio utilizzare per andare a puntare di volta in volta all'elemento successivo, l'oggetto che implementa l'interfaccia iterable e a questo punto automaticamente il compilatore a fronte di questa scrittura che utilizza il for each andrà a generare del codice che è assolutamente analogo a quello che abbiamo scritto appena sopra. Come possiamo invece dall'altro punto di vista andare noi a costruire un oggetto che ci permetta di utilizzare queste due interfacce per andare a fornire la possibilità ai nostri clienti di iterare su degli elementi. Vediamo questo esempio relativamente semplice. Immaginiamo di voler definire una classe letters che permette di andare a iterare sulle lettere di una stringa che ovviamente implementa iterable. Abbiamo un attributo chars che è un array di caratteri su cui andiamo a iterare e poi abbiamo la nostra classe letters che può essere inizializzata attraverso una stringa e semplicemente andiamo a chiamare il metodo to chararray che restituisce l'array di caratteri che sono presenti dentro la stringa. A questo punto il metodo iterator restituisce una nuova istanza della classe li che è una classe interna definita dentro la nostra classe letters. La classe li implementa iterator ovviamente e ha un attributo interno i che sostanzialmente mantiene la posizione in cui si trova l'iteratore. Il metodo esnext semplicemente va a restituire il confronto tra i e la lunghezza dei caratteri quindi ci sono ulteriori elementi se la posizione in cui io voglio andare a recuperare il prossimo non è oltre la fine dell'array. Il metodo next semplicemente restituisce il prossimo elemento e avanza di uno. Ovviamente visto che il metodo next deve restituire un object perché così è definito nell'interfaccia iterator vado a creare un oggetto della classe character a partire dal carattere che sto restituendo. Posso riscrivere questa stessa implementazione di letter utilizzando non una classe interna come li ma bensì utilizzando una classe interna anonima in questo modo. Quindi quando dentro il metodo iterator devo restituire un nuovo oggetto di tipo iterator semplicemente faccio return new iterator aperta chiusa tonda aperta graffa e chiusa graffa e qui vado a definire l'implementazione dell'interfaccia iterator che voglio restituire. Come vedete la notazione è un po' più complessa nel senso che è annidata ma in generale il codice è relativamente facile e leggibile e soprattutto non devo andare a inventarmi il nome di una classe li che implementi iterator. Dichiarate in questo modo la classe è anonima quindi non devo inventare un nome ma semplicemente vado a definire una classe che di fatto implementa l'interfaccia senza dare un nome specifico. Questo è molto comodo perché in pratica questa classe la classe li che ho definito qua la utilizzo in un unico caso all'interno di quella classe e specificatamente all'interno di un metodo tanto vale dichiarare quella classe in maniera anonoma direttamente dentro il metodo in cui è utilizzata. Questo modo di andare a scandire gli elementi di fatto è stato codificato in uno dei pattern standard del libro della Gang of Four che si chiama il pattern iterator. Il problema è specifico che ho una collezione di oggetti su cui voglio iterare, le due problematiche che sono che voglio avere la possibilità di avere più iteratori che mi permettono di andare a scandire gli elementi in maniera concorrente e indipendente e soprattutto voglio evitare di andare a rendere visibile all'esterno quella che è la memorizzazione interna degli oggetti. Io qui nella mia classe Letters ho utilizzato un array di caratteri ma potrei utilizzare altre tecniche di memorizzazione. La soluzione è quella di andare a fornire un oggetto iteratore che è attaccato alla collezione di elementi e che può essere utilizzato per andare a iterare in maniera indipendente da eventuali altri iteratori all'interno della mia collezione di oggetti. La struttura è sostanzialmente questa. Abbiamo un client che vede semplicemente un'interfaccia aggregato che in Java si chiama iterable e un'interfaccia di tipo iteratore. Ovviamente avremo poi delle classi concrete che implementano l'interfaccia aggregata e delle classi concrete che implementeranno un'interfaccia iterator. Un altro dei problemi che possiamo andare a risolvere normalmente utilizzando delle interfacce è quella che possiamo chiamare la parametrizzazione comportamentale. Immaginiamo di avere un algoritmo generico in cui ho alcune operazioni che possono variare. A differenza della modalità che abbiamo descritto prima del comportamento comune in cui sono gli oggetti utilizzati dall'algoritmo che dettano un po' le varianti. Qui immaginiamo di avere un algoritmo in cui le operazioni possono variare leggermente tra varianti dell'algoritmo ma sostanzialmente vengono utilizzate in maniera uguale su degli oggetti. Il problema è che ovviamente avendo tante varianti io rischio di dover avere molte implementazioni e soprattutto oppure in alternativa di avere dei costrutti condizionali per andare ad attivare una variante piuttosto che l'altra. Quindi sostanzialmente il risultato è un codice complesso. La soluzione qual è? È quella di andare a mettere queste varianti di comportamento non dentro l'algoritmo ma dentro degli oggetti che vengono poi utilizzati dall'algoritmo. A questo punto cosa faccio? Ho un'interfaccia che definisce le operazioni varianti tra una implementazione e l'altra dell'algoritmo e posso andare a costruire delle classi e quindi degli oggetti che vanno a personalizzare queste operazioni. Esempio. Immaginiamo di avere un metodo process, il nostro algoritmo, che riceve un array di oggetti e vuole eseguire tante diverse operazioni su tutti gli oggetti. Quindi cosa facciamo? Facciamo un ciclo e poi andiamo a fare un'operazione sull'oggetto. Che operazione facciamo? L'operazione è dettata da questo parametro C di tipo consumer che è sostanzialmente un'interfaccia funzionale. Ricordatevi che quando abbiamo parlato di interfacce funzionali l'interfaccia consumer è una di quelle interfacce definite dentro il package javautil function che accetta un oggetto come parametro e non restituisce nulla. Quindi quando io passo un oggetto C di tipo consumer posso tranquillamente chiamare il suo metodo accept e passargli l'oggetto. Quindi in funzione dell'oggetto che verrà passato a questo metodo process su tutti gli elementi dell'array v verrà eseguita l'operazione descritta in quell'oggetto. Per cui ad esempio se io ho una classe printer che implementa consumer e cosa fa? Prende l'oggetto e lo stampa posso andare a chiamare il mio algoritmo definito dentro il metodo process passandogli v che è l'array di elementi e poi un oggetto di classe printer. Il risultato è che questo andrà per ogni elemento dell'array a chiamare il metodo accept di questa printer che sostanzialmente stamperà l'elemento. Anche qui posso utilizzare una sintassi leggermente diversa sfruttando le classi interne anonime per cui ad esempio posso andare a dire processo printer uguale a new consumer e poi andare qui a definire l'implementazione usando una classe interna anonima. Ok? Questo oggetto che viene generato qua è quello che possiamo chiamare un oggetto comportamentale. Sono oggetti che sostanzialmente non hanno attributi ma hanno esclusivamente metodi. Quindi l'unico scopo di un oggetto comportamentale è quello di rappresentare un tipo di comportamento che potrà essere utilizzato all'interno di un algoritmo più ampio. Molto spesso succede che questi oggetti comportamentali abbiano un unico metodo quindi sostanzialmente implementino quelle che sono delle interfacce funzionali. Questo tipo di comportamento è sostanzialmente descritto da uno dei pattern del libro della Gang of Four e si chiama strategy. Il contesto in cui si applica questo pattern è quando abbiamo tante classi o algoritmi che hanno una parte stabile ma definiscono alcuni punti di variazione e la specifica operazione che voglio svolgere in questi punti di variazione può cambiare significativamente. Il problema è che io ho tante implementazioni differenti e che ovviamente dovrei utilizzare dei costrutti funzionali, condizionali molto complessi, quindi la soluzione abbiamo quella di andare a incapsulare la variazione all'interno degli oggetti, strategia, oggetti comportamentali come vi ho visto prima, che possono cambiare di volta in volta e questa è la struttura tipica del pattern strategy in cui ho sostanzialmente la strategia che è l'operazione che deve essere svolta all'interno di un contesto, quindi il contesto è dove viene fatto l'algoritmo. Quando ho la necessità di andare a definire una variante di questa operazione la posso definire in un oggetto strategy concreto A oppure B e quindi ho tante diverse alternative. Un'altra applicazione pratica di questo pattern all'interno delle librerie standard Java è data dalla interfaccia che si chiama Comparator. L'interfaccia Comparator che vediamo qua sostanzialmente è un'interfaccia che permette di andare a confrontare due oggetti A e B tramite un metodo che si chiama Compare che restituisce un intero. L'intero che viene restituito sostanzialmente rispetta alla solita semantica dei valori minori di 0, uguali a 0 o maggiore di 0 esattamente come il metodo CompareTo. La differenza tra l'interfaccia Comparator e l'interfaccia Comparable è che Comparator è pensato per essere un oggetto a sé stante, mentre invece l'interfaccia Comparable è pensata per essere implementata dagli oggetti che vogliamo andare a confrontare. Per cui quello che possiamo fare, ad esempio, è andare a definire un array di studenti e andare a confrontarli utilizzando il metodo sort a cui passiamo un oggetto compareto. Vedete che qua ho utilizzato una classe anonima in cui vado a definire il metodo CompareTo, scusate, il metodo Compare che riceve due oggetti A e B di cui faccio il cast a student e su cui vado poi a utilizzare l'attributo ID dei due oggetti che voglio andare a confrontare. Quindi in pratica con riferimento alla struttura del pattern strategy, questo è un esempio da manuale dove abbiamo il mio metodo sort che fa riferimento all'interfaccia strategia Comparator che posso andare a definire in più diverse varianti. Quali sono i vantaggi dell'utilizzare il pattern strategy? Sostanzialmente che non usiamo dei costrutti condizionali perché passiamo all'oggetto che varia in un caso, possiamo utilizzare i diversi algoritmi in famiglie, possiamo andare a scegliere diverse implementazioni e soprattutto la scelta su quale variante andare a utilizzare viene fatta a runtime perché io a runtime posso scegliere un oggetto piuttosto che un altro. Gli svantaggi se volete è che i client, quindi quelli che utilizzano questo algoritmo, devono conoscere quali sono le varianti e andare a scegliere una e ovviamente ho un po' più di overhead in termini di comunicazione perché invece di avere un'operazione svolta direttamente dentro il codice devo andare a chiedere a un oggetto di svolgere quell'operazione per conto mio perché di volta in volta quell'oggetto cambierà dandomi delle varianti diverse e quindi ho un numero complessivamente di oggetti coinvolti più elevato rispetto a un codice in cui ho dei costrutti condizionali. Un'altra tipologia di problema che io posso andare a risolvere utilizzando le interfacce è quello che si chiama il disaccoppiamento in termini di comunicazione. Mi capita spesso di avere all'interno di programmi complessi coppie di oggetti che comunicano tra di loro, quindi ho qualcuno che manda un'informazione e qualcuno che la riceve. Ecco, più questi oggetti sono disaccoppiati più io posso andare a modificarli, farli evolvere, svilupparli in maniera indipendente dando sostanzialmente una maggiore flessibilità di sviluppo. Inoltre in termini di manutenzione io posso andare a modificare, correggere uno senza andare a influenzare l'altro. Un esempio tipico di disaccoppiamento di comunicazioni nelle librerie standard Java è quella della coppia observer-observable che sono definiti nel package java.util. In particolare observable è una classe e observer è un'interfaccia. Qual è il funzionamento di questi due elementi? Sostanzialmente la classe observable gestisce una lista di osservatori a cui mandare delle notifiche quando c'è una qualche variazione. Invece l'interfaccia observer sostanzialmente è l'interfaccia che verrà chiamata, quindi l'interfaccia che dovrà essere implementata dalle classi a cui mandare queste notifiche. In pratica la struttura è la seguente. Io ho un oggetto observable a cui posso aggiungere degli osservatori e a cui posso chiedere di notificare un qualche evento agli osservatori. Questo oggetto andrà a notificare gli osservatori utilizzando un metodo che si chiama update che è definito in questa interfaccia. Avrò poi delle classi concrete di oggetti observable e delle classi concrete che implementano l'interfaccia observer. In particolare, se andiamo a considerare come funziona la classe observable, possiamo osservare che si assume che per notificare un cambiamento io devo innanzitutto andare a dire che c'è stato un cambiamento, per cui la classe observable sostanzialmente definisce un metodo che si chiama setChanged che può essere chiamato per andare a dire qualcosa è cambiato in questo oggetto. Dopodiché ho un altro metodo che si chiama notifyObserver che è quello che permette di andare effettivamente a notificare gli osservatori che c'è stata una variazione. Perché questi sono divisi? Perché è possibile che all'interno di un'operazione complessa io cambi tante cose e quindi vada a chiamare più volte il metodo setChanged e voglia fare un'unica notifica complessiva tramite il metodo notifyObserver. Questi sostanzialmente implementano quello che si chiama il patternObserver che è un altro dei pattern definito nel libro della Gang of Four. Il contesto in cui ci troviamo è quello in cui io ho un oggetto i cui cambiamenti voglio che siano notificati a uno o più altri oggetti collegati, vorrei evitare di avere un altro accoppiamento, quindi vorrei avere la necessità che chi notifica debba conoscere bene nel dettaglio come sono fatti gli oggetti a cui notificare e soprattutto voglio avere un'indipendenza in termini di quali e quanti sono gli oggetti a cui voglio notificare. Il numero ed identità specifica degli oggetti può variare a runtime e deve essere un qualcosa di flessibile. La soluzione è quella che abbiamo visto prima con la coppia Observer Observable in cui abbiamo una classe base Subject che è quella che permette di gestire l'insieme la collezione di oggetti a cui notificare e che gestisce anche l'operazione di notifica e poi ho un'interfaccia Observer che è quella generica a cui verranno inviate le notifiche. Quindi non ho necessità di conoscere come sono fatti gli Observer, a me basta sapere che hanno un metodo che si chiama update o in un altro modo che vi permette di mandare queste notifiche. In questo modo noi abbiamo sostanzialmente visto alcuni modi diversi di utilizzare l'ereditarietà per risolvere dei problemi standard. Un ultimo modo di utilizzare le interfacce è quello di utilizzare le interfacce come meccanismi di flagging, ovvero abbiamo a che fare con un problema in cui abbiamo tante classi che possono essere utilizzate in maniera sostanzialmente intercambiabile e quindi ragionevolmente stanno in una gerarchia di ereditarietà, quindi ho una classe di base a cui posso fare riferimento e tante classi diverse, ma vorrei avere un sotto insieme di queste che in alcuni specifici contesti debbano essere utilizzate diversamente. Io vorrei avere la possibilità di identificare queste classi a runtime e ovviamente vorrei evitare di aggiungere un flag specifico perché questo andrebbe a impattare tutte le classi, da quella più generale a tutte quelle che le implementano. La soluzione è quella di utilizzare quella che chiamiamo una flagging interface, ovvero un'interfaccia che io posso implementare, l'interfaccia può essere tranquillamente vuota e poi a runtime posso semplicemente andare a verificare tramite instance of se un particolare oggetto ha quella caratteristica. Esempio, torniamo alle espressioni che avevamo visto parlando di interfacce. Alcune espressioni quando io devo stampare la formula testuale potrebbero richiedere delle parentesi attorno, ad esempio le operazioni, quando ho una somma voglio avere le parentesi attorno in modo da mantenere le priorità. Io posso andare a definire quella che è un'interfaccia composed che semplicemente mi serve per segnalare che le classi che implementano questa interfaccia quando devono essere stampate in termini di formula richiedono delle parentesi attorno. Quindi ad esempio la classe operation oltre a implementare l'interfaccia expression implementa l'interfaccia composed che abbiamo detto è vuota, serve semplicemente come flag. A questo punto quando devo andare a stampare una espressione dentro il metodo formula posso semplicemente andare a recuperare la formula dell'operando sinistro, la formula dell'operando destro e poi se l'operando sinistro è un instance of composed allora metto una coppia di parentesi stessa cosa sull'operando destro. Se è un instance of composed quindi l'oggetto è un'istanza di una classe che implementa l'interfaccia composed allora metto le parentesi attorno e poi restituisco il risultato. Un esempio di questa tecnica di flagging interface è data dall'interfaccia clonable che è definita nel package Java.lang e semplicemente serve per andare a segnalare che le classi che implementano questa interfaccia possono essere copiate attributo per attributo. Infatti il metodo clone che si trova dentro la classe object normalmente se viene chiamato su un oggetto di una classe che non implementa questa interfaccia genera un errore. Altrimenti effettivamente essendo segnalato che è possibile fare una copia effettivamente genera un oggetto che è una copia puntuale di quello di partenza. Per convenzione quindi che cosa si fa di solito? Quando io dico che una classe è clonable vado a ridefinire tramite un override il metodo clone e chiamo il super clone ovvero il metodo clone dell'interfaccia della classe di base che sostanzialmente sarà object. Dopo aver creato una copia tale quale dell'oggetto di partenza posso eventualmente andare a modificare alcuni campi perché non è detto che io tutti i campi che ho modificato all'interno del mio, che ho duplicato a partire dal mio oggetto debbano essere mantenuti così quindi magari posso avere alcuni che voglio andare a modificare. Immaginiamo di avere un riferimento a un oggetto esterno magari io voglio poter andare a duplicare anche quell'oggetto non semplicemente avere il clone che punta allo stesso oggetto. Quindi questo è un ulteriore modo di utilizzare le interfacce per andare a flaggare alcune classi dicendo che hanno alcune proprietà e quindi potranno essere utilizzate in maniera diversa all'interno di algoritmi senza dover in alcun modo andare a impattare gli oggetti stessi aggiungendo flag o anche andando a definire nessun metodo specifico. E' chiaro che nel caso specifico di clonable per sapere se un oggetto è clonable oppure no avrei potuto andare a mettere un attributo oppure un metodo che dice è clonabile oppure no però questo impatterebbe tantissimo tutti gli oggetti avrei un metodo in più quindi una cosa molto più complicata invece questa interfaccia che serve come flag è molto molto più semplice e non ha un impatto alcuno su chi non la vuole utilizzare. Quindi con questo noi abbiamo visto una panoramica di quelli che sono i vari modi di andare a utilizzare le interfacce per risolvere diversi problemi in particolare le problematiche che abbiamo risolto sono quelle di andare a definire quella che è una interfaccia comune per tante diverse implementazioni quello che è un comportamento comune per gli oggetti che vengono utilizzati all'interno di un algoritmo quello di andare a definire degli oggetti comportamentali che permettono di parametrizzare in maniera in termini di comportamento non tanto in termini di dati degli algoritmi definiti come possiamo andare a disaccoppiare la comunicazione quando c'è un oggetto che vuole comunicare con un altro mantenendoli assolutamente separati e distinti e infine abbiamo visto come possiamo andare a utilizzare delle interfacce per andare a flaggare alcune classi. A questo punto ci resta solo più da capire quali sono da un punto di vista sintattico le novità introdotte in particolare in Java 8 relativamente alle interfacce e alla loro implementazione.